Frosinone è in corsa per ospitare la quarta edizione della manifestazione Lazio Pride sui diritti LGBT. È stato lanciato un contest sulle pagine social di Lazio Pride, dove il capologo Ciociaro ha superato Albano Laziale nella classifica che deciderà dove ospitare la manifestazione, che ha come obiettivo la sensibilizzazione di tematiche riguardanti il mondo LGBT, lesbiche, gay, bisessuali e transgender. Il web si sta scatenando, tanti voti a favore dell'evento, altrettante critiche e perplessità. La notizia della candidatura di Frosinone è rimbalzata anche nella politica. Rispetto alla possibilità di veder sfilare nelle strade di Frosinone e il Lazio Pride, esprimiamo a gran voce la nostra contrarietà più assoluta, hanno espresso gli esponenti provinciali del Movimento Giovanile della Meloni in provincia di Frosinone, Gioventù Nazionale. Di quanto sia una manifestazione che oltrepassa di gran lunga il limite della decenza e del pudore, ne abbiamo avuto testimonianza negli anni, da quando nella nostra nazione si è iniziato a dar luogo a questo spettacolo di gay, lesbiche e transessuali che marciano e sfilano sui carri nei modi più sconci, dando sfogo senza freni alle proprie perversioni, inaccettabile sempre e ovunque, non solo a Frosinone, ha sottolineato il presidente provinciale Daniele Massa. Dello stesso avviso la responsabile Giovani Lega, Maria Veronica Rossi. L'idea di avere nella mia provincia il Lazio Pride non mi entusiasma, dichiara. Conosco molte persone e ho amici gay che non hanno il bisogno di manifestare per esprimere e far valere la propria persona. Spesso il Pride è stato usato solo come mossa per attaccare la Lega e la politica.